Grazie a tutti. Sì, un artista che ha già esposto anche quest'anno solo per citarmi alcune a mia art, alle file di Bergamo, di Verone, eccetera, quindi molto noto, che ha voluto introdurre nella sua poetica il LED. È un acronimo che sta per Light, è un diodo che emette luce, sono questi qui, che poi vedrete. Poi spegneremo la luce perché sapete che tutta l'arte si basa sulla luce, i colori, se spegniamo la luce non vediamo più niente, qui invece spegnendo la luce siamo in situazione del contrasto tra il colore e il non colore. Comunque è interessante il discorso che lui ha fatto sulla luce, voi sapete che altri artisti avevano ricominciato già decenni addietro, pensiamo a Fontana quando faceva quei suoi neon, no, alla mostra, eccetera, per indicare che lo spazio veniva anche definito da luce, oppure Dan Flavin, un americano che faceva tutti i neon coloranti, eccetera, oppure anche lo stesso cuore l'era che lui faceva, però sono tutti artisti che hanno fatto la luce esterna, cioè la luce che a un certo punto definiva uno spazio impalpabile, perché la luce non la possiamo toccare, la vediamo ma non la tocchiamo. Quindi era un discorso liberatorio, diciamo, in qualche modo della materia e ti andava a sfogare, a sfogare, a sfogare, nella luce nuova. Qui invece il processo è contrario, la luce è dall'interno del quadro, quindi è una luce interiorizzata che per manifestarsi, diciamo, si estroietta poi dalla tela verso di noi e nello stesso tempo crea dei ritmi, delle alternanze, oppure delle posizioni, delle simmetrie, che sono accompagnate ritmicamente anche da una sorta di grafica di fondo che si articola spesso sul quadrato, altre volte indefinita, come in questo vedete c'è definizione e non definizione, ci sono due quadrati che però sono definiti solamente per la lunghezza e non nell'altro senso, per cui sono queste linee parallele che si richiamano empaticamente. Sotto c'è un altro discorso che è come la somma dei due precedenti, come per le linee marroncine, e poi ci sono questi tre ritmi alternati di colore con letter. Naturalmente anche qui ci sono questi viola che si accompagnano molto bene, non c'è l'arancio sotto il colore nero. Comunque l'altro, vedete pure, bisogna prendere in considerazione il tutto. Io addirittura, se volete, per un momento spegneremo le luci, perché è così, possiamo vedere l'effetto che fanno, questo è un effetto, diciamo, fantastico, è benissimo. Allora, se deve spegnere di là? Sì, 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 benissimo. Ecco, vedete subito che atmosfera, no? Quasi di presente, per fare un paragone non più coerente, ma diciamo, crea subito la magia dell'atmosfera, no? L'atmosfera è una cosa che con la luce tende a risolgersi, perché noi vediamo la testa di uno e il cappotto di un altro, vediamo il quadro, vediamo le lampade, vediamo i muri, qui invece no, ci focalizziamo su una parte dell'opera che è quella essenzialmente luminosa, perché vedete che spegnendo tutto il discorso di accompagnamento ritmico di cui parlavamo prima, praticamente scompare. Però, naturalmente, si esalta quello luminoso, perché, insomma, noi sappiamo che, noi non vediamo i colori, noi vediamo le differenze di colori, quindi queste differenze cromatiche sono quelle che caratterizzano l'opera. Poi, naturalmente, anche qui ci sono, per fare citare quelle che avete visto lì nell'atrio, ci sono delle estroflessioni e introflessioni di tele, in cui vedete che la tela viene in aggetto, in avanti, vai dentro, eccetera, quindi crea anche questo un altro salto dimensionale, per farci capire che è un aspetto scultorio della pittura, quindi abbiamo l'aspetto luminoso, l'aspetto cromatico e l'aspetto scultorio. Abbiamo tre caratterizzazioni che si forciano poi tutte insieme. Ecco, qui vedete l'interesse, ma questa qui sembra l'inizio di una supernova, eccetera, una rotazione di galassie, come subito ci si porta in ambiente cosmico, diciamo, perché voi sapete che nel cosmo c'è tutto buio, solamente quando la luce incontra un oggetto c'è una riflessione e quindi c'è la compazza di un cosmo. Spesso in lui è richiamato questo senso della spirale, come inizio di un movimento espansivo che poi si diffonde nello spazio, quindi attraverso questa espansione lui riesce a prendere le coordinate principali e quindi a caratterizzare poi un'opera secondo delle linee curve, delle linee rette, del cielo, come vedete il resto, che è magnifica il risultante, che ottiene queste figure, sono alcune delle figure, quasi, che sono basate invece su dei quadrati, poi anche questi inclusi tutti in una spirale crescente con una sommazione di due colori, che poi in giallo e in nero lo vedrete quando riaccenderemo la luce. Qui abbiamo invece una formazione basata su degli esagoni che si incontrano simmetricamente e abbiamo queste quattro luci che vedete come richiamano i pugni che avevamo visto ecco in quello là, vedete, li vedete qua ancora. Naturalmente sono figure che ci portano come delle frecce verso il centro, vedete, sono convergenti, vedete con che tecnica lui riesce a farci capire che la luce va verso il centro e con le due linee che spingono come un triangolo, no? Kandinsky diceva che la cosa più espansiva è un triangolo isoscele o equilatero che va verso l'alto, con la punta verso l'alto, perché la punta verso l'alto o verso l'interno è sempre molto importante, la freccia, no? Come nella segnaletica stradale, quando vediamo la freccia sappiamo che c'è un obbligo, c'è un divieto assoluto di fare quelle cose. Naturalmente l'associazione ritmica degli esagoni, vedete come sono contrapposti tra di loro, in modo simmetrico, in modo da creare sempre una risultante quasi di staticità dinamica, è sempre una contraddizione in termini, no? Ma cosa succede? Andando sempre più verso la perfezione della linea, verso la sintesi formale, succede proprio questo, che ti si allontana da una sensitività materica, naturalistica, fisica, emotiva, per cui, capite, è la razionalità che prevale in queste cose e la razionalità porta a questo bilanciamento assoluto. E' come quelle persone molto ignoranti, no? Che gridano per poter manifestare i loro pensieri, eccetera. La persona porta invece si esprime in termini normali, senza esagitazioni, senza partecipare affettivamente più di tanto, diciamo, a ciò che dice. Perché la razionalità impone questo, di avere un equilibrio. E lui questi equilibri li raggiunge e ce li vuole illustrare in questo modo. Vedete, ad esempio, ecco, questa situazione è un triptico, no? Triptico. Ecco, è un triptico perché se noi li vedessimo separati, per modo di dire, vedessimo un quadro come questo, con le luci a destra, diciamo, ma è tutto sbilanciato a destra, qui mancano le luci a sinistra. Invece c'è questa contrapposizione delle luci, vedete, che sono a sinistra in verticale, a destra in orizzontale, dinamizzate da queste due lignette diagonali, sia qui che là. E il tutto, naturalmente, ci offre tre possibilità espressive, in cui una e una e due forse sono sommate. In questa, adesso dovrei vedere un pochino, ecco, ma questo è il discorso. Allora, vedete che la coerenza è questa, dice, ci dà il tutto e poi le due componenti che, unite insieme, creano un tutto che è bilanciato a sua volta. Facciamo un applauso, un applauso, una torta e le sue ore.